vi starete chiedendo perché perché non c'è più il leo racing team e perché non corro in ct3 perché questo weekend correrò con lei il leo racing team e leo racing team non posso spiegarvelo non voglio spiegarvelo in questo momento ma vi spiegherò tutto e questo weekend correrò con la mia gente tanto la conoscete bene con il team fox racing giorno mattia il grande boss e i due boss 1 guardate pure chi c'è salve salve allora mi hanno detto che non condividiamo la macchina allora niente io pensavo di stare sul sedile con te ecco vi ha appena spiegato tutto alberto io correrò sulla 40 4 io il grande boss dario fossati e sulla 16 correrà appunto alberto cola e mattia fossati vabbè tanto la conoscete già mi jet motore 2000 più o meno 230 cavalli e più o meno 900 kg cambio al volante abbiamo anche la leva tre pedali una macchina a corsa lo costo e siccome abbiamo improvvisato tutto che non c'è il mio nome f leo fox racing federico leo abbiamo un museo di arte moderna oggi due sessioni di prove libere domani due qualifiche quattro gare io farò due gare non voglio trovare già le scuse però è giusto trovarle cercarle non conosco bene la macchina ci avrò fatto 30 giri in tutta la mia vita ci sono tanti piloti esperti della categoria quindi non sarà facile guardate che bella tutta chiusa proprio col kit aggiornamento l'ultimo carina anche i colori sono molto familiari diciamo ci devo fare un weekend dopo tanti anni che ci conosciamo insieme porto cane pensa che una volta mi prendevi in giro perché io andavo sulle midget e adesso ti tocca venire anche a te sulle midget e saremo anche avversari pure avversari tocca darti delle sportellate queste sono per te ma che belle pure fox racing tutto marchiato che il papero sia con noi vai papero spinghi l'avevo detto su instagram tanti non lo sapranno mi hanno rubato tutto per fortuna ho tante cose in casa ho lasciato una borsa mezz'ora sotto casa mia tu direi fede siamo sì lo so lo so mi hanno aperto la macchina e mi ha rubato la borsa con le tute col collare ans quindi sto recuperando un po di robe a caso allora partiamo io e albi lui fa tutto il turno io faccio solo metà turno quindi farò 12 13 minuti e poi faccio salire il buon dario non ho mai girato a misano con la midget non cercando le scuse ai migliori scherzi a parte non sarà non sarà facile avete visto che bella nuova istra 360 go 3 in caso vi lascio un link qui sotto è una sciarpa ho freddo allora questi guanti che vedete addas dato che mi hanno rubato tutto li ritrovati ieri ed io usati per la 24 ore di le mans che ricordi è un 3000 è una lola mi sembra è quello della lola ok si parte per le mie prime prove libere di sempre con le midget abbiamo gomme nuove perché hanno cambiato completamente la gomma per tutti quindi nessuna usata tranne qualche team che ha testata andiamo 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 dov'è il motore il motore dov'è prendiamo poi spazio e proviamo a fare il primo giro scaldiamo bene prendiamoci la mano dove prenderò qua troviamo qua entriamo subito troviamo le marce a caso troviamo passare via diamo andiamo andiamo Andiamo, 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 yeah 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 baby, posso andare, posso andare, qua non so cosa fare, seconda o terzo, come è seconda, per essere belli puliti, farla scorrere bene, dice Alberto, guardate qua il curvone, arriviamo qua pieni, e poi appena dopo, si frena, quarta marcia, si butta dentro, si fa scorrere bene, si frena, si entra dentro, si dà gas, questa piena, si, portiamo entro a frenata, guarda come va, guarda come va, quel maledetto, ho un'idea come sia andato, poi devo prenderci ancora la mano, qua devo pompare un po' il freno perché va un po' giù, qua devo stare attento ai traclimi, che però il cordolo si può usare, ma è divertente, ho nato a andare a potenza, però si guida bene, dai, ma è bello, perché arrivi in sesta, vai fino da qua, tutti entro la quarta, anticipi con lo sguardo, devo entrare forte, così almeno guardiamo le pressioni bene, box, 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 ora dobbiamo cambio pilota, entra Dario, io non ho idea come sia andata, ma ho le pressioni molto alte, quindi, Quanto siamo? Adesso si è scontato a 10, guarda il primo. Madonna, tu 4 e 8 io, 5 e 2 qua, manca un secondo e 8 dalla pole, che non so dove prendere, ci prende un po' la mano, magari abbiamo le pressioni alte. Come tempi non so perché ho fatto 4 giri, le ho messe anche molto bene, però poi ci dobbiamo fermare, fare le pressioni e è entrato Dario. Invece Alberto, mi ha migliorato molto quando ha fatto le pressioni, quindi sono positivo per dopo. Comunque, divertente, vorrei fare qualche giro in più per prenderci la mano, alla fine mi hanno appena detto che non mi avevo neanche chiamato dentro, ho visto la tabella sbagliata della 16 e ho fatto un giri meno. Vabbè, gireremo un po' di più dopo. Adesso dobbiamo aspettare oggi pomeriggio per le prove libere 2, faccio entrare Dario e poi entro io per l'ultimo quarto d'ora, però sono curioso di vedere la gara. Boss, com'è andata? È bellissima, è completamente diversa l'altra. Sì, ma è la gomma pure. Questa è quasi una slick rispetto a quell'altra, sono entrati con le pressioni molto alte apposta, dovevano stabilizzarli, infatti quando l'ha stabilizzata il WIC è andato giù. Secondo me è un 3, 3, 3, 3, 2, non si faceva. Di vedere dopo quando si spinge tanto, che succede? News dell'ultima ora, ultimo minuto, ultimo secondo. Ma allora, io nella vita voglio star lontano dagli youtuber e gli youtuber invece arrivano da me. Io non sono gli youtuber. Cioè capisci? Infatti io grazie a Dio sei un pilota, ti reputo ancora un pilota. Pilota, content e creato. Esatto. La novità è che... La novità è che siamo compagni di squadra ragazzi. Di squadra nel senso di macchina. Di squadra avevamo anche prima. Sì, di macchina, di macchina, esatto. Quindi, fedeleo, albicola insieme sulla 44 e Mattia, figlio del grande capo e futuro grande capo con grande capo che sta per entrare qui dentro. È disastro. Non so se ci sarà ancora ma quanti gradi? Adesso è a 10. 10 gradi, dai. Marembo bucaiola. Il pisello come è diventato? Questa è acqua fredda, è vero. Sono 10 gradi ed è molto importante la respirazione. Ok? La respirazione deve essere con il diaframma, poi con il petto e butto fuori con la bocca. Dai, che ce la fai? È normale che il mignolino stia diventando nero. Anzi, è bellissimo. Ora inizialmente facevo male. Poi tocchiano pianti e bitwi e poi stai benissimo. Mancano 10 minuti. Prontissimo. Sono pronto io. Ciao. Ciao. Grazie per la visione! Proprio lei, la 54, l'auto di Nazca ed Ian, ma questo weekend guidata a Luca Franca. In più, i piloti che conosco meglio in tutto il paddock, amici con cui scherzo sempre, ma stavolta direi, che sfiga, proprio con loro! Non so, non c'ero io in macchina! Non c'ero io in macchina! Non c'ero io! Fai così, rettilineo, ti viene con la macchina addosso e capisci! Scusa, mi sei venuto a tosso! Come Alberto fa più l'uva, dico, mi ha preso Alberto! Non c'ero io in macchina io! Nell'asca nell'altro! Non c'ero io in macchina! Cos'è una suona che vanno a boccia! Spero! Riassunto della giornata, non conosco la macchina, ho fatto tre giri stamattina e domani qualifica! Bello! Sperando che la macchina sia sana! Dio, buono! Alla fine è andata bene, solo un braccetto, ma che non ci ha permesso di provare la macchina nella seconda e ultima prova libera della giornata. È arrivata l'ora della qualifica? Albi? Sì! Com'è? Ma pronti? Ce la fai o non ce la fai questa pole? Se non mi buttano fuori! Sei carico, boss? Assolutamente sì! Dai, dai, dai! Momento scuse, adesso improvvisare in qualifica perché ho fatto tre giri sulla midget, dovrò improvvisare i punti di frenata, le marce, però vabbè, questo è il bello del motosport! 3, 2, ci mancano 7 decimi, insieme volano, potete fare volare! Siamo ottavi, il problema è che ha un secondo e quattro e Albi va forte! Mi siamo un po' tutte diverse queste macchine tra di loro! Senso che non sarà una qualifica facile, ho visto Albi in difficoltà e Albi è un ottimo riferimento, conosce molto bene la macchina, un pilota professionista anche lui, quindi se ho faticato lui non sarà facile! Vediamo, andiamo, andiamo subito! Ed eccoci qui al mio giro di qualifica Curva 1, cerco di staccare tardi, portare anche un po' di velocità ma anche di sacrificare Andata più o meno bene, qua sono riuscito a tagliare e qua gaso il prima possibile Poi lascio scorrere il più possibile Arriviamo alla curva del Rio Cerco di portare la frenata più dentro possibile dalla curva Va bene, un po' di sotto e qua devo sacrificare bene Devo riuscire a uscire pieno Va più o meno bene E arrivo qui alla quercia Ho aggiustato un po' il ripartitore di frenata Staccata forte Un po' di sovra in ingresso E devo andare sul gas il prima possibile Una curva molto difficile E importante per il rettilineo Il tramonto Frenata forte Un po' di sotto Però è importante andare sul gas prestissimo Lungo rettilineo e arrivo al curvone Qua tutto pieno Pieno ancora e poi si frena subito Frenata forte si butta dentro Ho perso un po' il punto di corda Sicuramente qualche centesimo l'ho perso E poi devo buttarmi dentro E dare il gas Presto Penultima curva Piena E anche qua Ultima curva Si butta dentro E gas il prima possibile Vai 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 Fede Push Speriamo di avere ancora un giro Che possiamo migliorarlo Noo Abbiamo finito la benzina Noo 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 Avevamo ancora 3-4 decimi Sicuro Peccato Dovremmo essere quinti Ho fatto 2-8 Non so se avete visto Abbiamo migliorato di 4 decimi In tempo di albi Con qualche litro in meno Quindi secondo me Sui 2 decimi o di albi Sono contento Penso di aver guiato bene Com'è Ian? 2-8 Tu? 3-6 3-5 Eh non è male Ian dopo ti dico veramente 2 punti Perché nella prima parte vai molto bene È più preoccupante Quando ti mancano Un decimo in tutte le curve Invece a te mancano 2-3 decimi In tre curve Oh ma allora sai ancora guidare Cazzo Eh più di quello C'è un po' dico Sì comunque un secondo Io non ce l'ho No ma è per quello che ti dicevo La scia Nel senso che io ho visto loro I francesi Fanno come i kart Si attaccano uno dietro l'altro E effettivamente qualcosa Tirano fuori Non un secondo Però secondo me Un 6 decimi Loro lo tirano fuori Eh sì sicuro Quanto siamo quinti? Sì quinto sì Bravo Cacchio Se chiudevo il giro buono Perfetto perché Lo sotto due decimi Potevo fare 2-5 Quindi ora si pensa a gara 1 Che la farà il buon Albi Speriamo di recuperare un po' Ottavo Decimo Decimo Però l'esperienza pagherà So che Diamo tutto sul curvone Diamo tutto in partenza Il curvone E io poi Oggi pomeriggio Partirò il 5 Esatto Bene Sono contento di correre con Albi È una cosa strana a dire Ma sono contento Poi incredibilmente Invece abbiamo scoperto Che sai ancora guidare Pazzesco E che siamo ancora amici Cacchio siamo ancora amici Esatto No bene dai Un ringraziamento a Fox Racing È stato bello Devo dire che per ora è bello Poi ne riparleremo A fine weekend Sto rosicando ancora un po' Per cosa? È perché Sai comunque Anche se non corro da un po' Sono sempre competitivo Cioè voglio essere competitivo Ma cazzo Sei quinto Porco cane Eh lo so però Sei quinto Io sono decimo Alla fine Vabbè Ora Andiamo in gara Gara 1 Gara 2 Ma noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Comunque che stile Veramente Beh in realtà io davanti alle telecamere Sono come quelli che Se l'intervistano mezzo busto E sotto sono i mutande Comunque per te Che guardi il video Che va in giro dicendo Se mai salisse Federico Non è più il pilota di prima Prenderebbe almeno un secondo e mezzo Da me sicuro Quanto hai preso oggi da me? Sapete che non è da me ma Uno sfogo ogni tanto ci vuole Che avvicini e giro A A A A A A Grazie a tutti